Nuovo blitz delle forze dell'ordine al boschetto della droga di Rogoredo, controllate 43 persone, due denunciate per inosservanza del foglio di via, altri due stranieri senza permesso di soggiorno. Operazione di sgombero questa mattina a Milano nel quartiere Niguarda, all'interno delle case popolari è stata trovata una donna anziana che avrebbe gestito il racket delle case popolari fino a qualche anno fa. Presentato in consiglio regionale della Lombardia il nuovo intergruppo consigliare composto da tutte le forze di maggioranza e minoranza per tutelare i diritti dei pazienti affetti da tumore. Bike sharing in crisi a Milano, furti, danneggiamenti e atti di vandalismo stanno creando problemi al servizio. Il 10% delle bici gialle offo ogni mese viene vandalizzato. Buonasera, benvenuti al TGN, apriamo questa nostra edizione con il blitz al boschetto della droga, quel bosco che si trova nei pressi di Rogoredo, teatro da tanti anni di azioni di contrasto da parte delle forze dell'ordine ma soprattutto di area di spaccio e di droga, anche oggi un'operazione delle forze dell'ordine, 43 le persone controllate, due quelle trovate senza foglio di via e altri due stranieri senza permesso di soggiorno. Alberto Carreras ci spiega tutto nel servizio. Il boschetto della droga di Rogoredo a Milano continua a essere terra di nessuno dove spaccio di droga, tossicodipendenti e malavita varia la fanno da padroni. Oggi è scattato un nuovo blitz da parte delle forze dell'ordine. Una trentina di carabinieri della compagnia di Porta Monforte, del nucleo radiomobile e del terzo battaglione Lombardia unitamente a un elicottero dell'arma e una trentina di agenti della polizia locale hanno bonificato la zona unitamente a unità cinofile. Decine di frequentatori sono stati controllati, alcuni condotti in caserma per approfondire la situazione. Il controllo si è focalizzato sull'area verde interna del cosiddetto boschetto della droga, zona impervie e frequentata da assuntori di stupefacenti, spacciatori e persone senza fissa dimora, più volte al centro delle cronache milanesi. Il Comune è fortemente intenzionato a rendere vivibile questa zona che in parte è già stata assegnata all'Associazione Italia Nostra che dovrà riqualificare il verde e gestire l'area con un contributo di 950 mila euro per cinque anni. È positivo quanto fatto stamane, ha detto l'assessore regionale alla sicurezza della Lombardia Riccardo Decorato, ma purtroppo non è sufficiente. Il problema sarà risolto per le prossime 24 ore e poi tutto tornerà come prima, così come dimostrano anche i blitz organizzati in stazione centrale. Pochi giorni fa il sindaco Giuseppe Sala aveva fatto un sopralluogo a Rogoredo e aveva dichiarato che uno dei grandi problemi di Milano è angosciante vedere il costante pellegrinaggio dei tossicodipendenti. Servono soluzioni concrete, ha detto il sindaco, mirate a risolvere la questione in via definitiva. E da una periferia complessa e con molte difficoltà come Rogoredo ci spostiamo in un'altra area esterna, area periferica di Milano, Aniguarda. Questa mattina uno sgombero nelle case popolari, queste le foto, operazioni di sgombero. Al momento dell'arrivo degli agenti del commissariato di zona, nell'appartamento sgomberato, c'erano una donna anziana e un nipote minorenne. Stando a quanto è stato reso noto dalla Polizia di Stato, successivamente è arrivata anche una donna più giovane che viveva lì e si tratta di una donna già nota alle forze dell'ordine per aver gestito il racket delle case popolari fino a qualche anno fa. Nel corso di un controllo approfondito nei box, i poliziotti hanno rinvenuto diverse auto rubate, moto rubate. Questa operazione della Polizia di Stato rientra nel progetto Penelope è elaborato appunto dalla Questura milanese per fronteggiare l'abusivismo nelle case popolari. Queste le immagini anche della perquisizione dei box in cui sono state trovate auto e moto rubate. Ci occupiamo ancora di cronaca perché per l'emissione di fatture, per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di scritture contabili, omesso, versamento, diva e riciclaggio, e sono 39 le persone denunciate per aver fraudato il fisco. Una frode fiscale da 44 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Gorizia. L'hanno messa in atto 39 persone, sommiciliate tra le province di Brescia, Bergamo, Roma, Milano, Monzebrianza, Verona, Padova, tutte denunciate a vario titolo per emissioni di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di scritture contabili, omesso, versamento, diva e riciclaggio. Le indagini sono cominciate nel marzo del 2015, dopo il fermo al valico di confine San Pietro in provincia di Gorizia, di tre persone provenienti dalla Slovacchia, le quali, dopo aver riferito ai finanzieri di avere solo poche decine di euro, sono state invece sorprese con 271.830 euro, somma composta da banconote da 500 euro nascoste sotto il sedile del conducente, senza la prescritta dichiarazione valutaria per importi superiori ai 10.000 euro. Le indagini, condotte con l'esecuzione di 46 decreti di perquisizione domiciliare e con l'impiego di 120 militari, con accertamenti bancari su 82 conti correnti italiani ed esteri, l'approfondimento di 24 segnalazioni di operazioni sospete, l'accesso a 6 cassette di sicurezza, hanno permesso di accertare le emissioni di fatture false per oltre 44 milioni e mezzo di euro da parte di 9 società straniere, di cui una con sede in Ungheria e 8 in Slovacchia. Ricorderete sicuramente l'aggressione avvenuta nei confronti di Nicolò Bettarini, il figlio di Stefano Bettarini e di Simona Ventura, oggi uno dei componenti della gang che li ha attaccato ha chiesto la scarcerazione. Il suo avvocato ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame, il cliente Albano Yayek, italiano di origine albanese, uno dei quattro fermati per il tentato omicidio a calci, pugni e coltellate di Nicolò Bettarini. Era avvenuto questo fatto davanti all'All Fashion, una discoteca nel Parco Sempione, il suo legale ha chiesto ai giudici di annullare la misura della custodia in carcere e l'udienza deve essere fissata. Per il GIP Pepe, che nei giorni scorsi aveva disposto per i quattro la custodia, si erano certamente prefigurati come un tentato omicidio, quel pestaggio con anche coltellate con una lama da 20 centimetri. Questo ragazzo, Albano Yayek, italiano di origine albanese, sostiene però che era fasciato quella sera e dunque non in condizioni fisiche tali da partecipare ad un tentato omicidio, come sostiene l'accusa, e per questo il suo legale ha chiesto la scarcerazione. Ci occupiamo adesso del Consiglio regionale della Lombardia. Una buona notizia, è stato formato l'intergruppo consigliare, quindi composto dalle forze di maggioranza, dal centro-destra, ma anche da tutti i gruppi di opposizione, con un obiettivo comune, quello di tutelare i diritti dei pazienti affetti da tumore. Questa mattina alla presentazione c'era il nostro Paolo Pirovano. La salute, un bene da difendere, un diritto da promuovere. Con questo slogan in regione Lombardia è rinato l'intergruppo consigliare per tutelare i diritti dei malati di cancro e assicurare la loro migliore presa in carico. Sono 21 i consiglieri regionali che dopo la positiva esperienza della passata legislatura hanno deciso di aderire all'iniziativa promossa da Salute Donna Onlus con altre 20 associazioni. Siamo felicissimi perché hanno aderito tutti i gruppi politici, come anche nel passato. Siamo felici perché siamo certi che potremo fare grandi cose. Cose importanti sono state fatte nel passato, come l'esenzione del ticket per le donne positive al BRCA1 e BRCA2. Non solo, si è stato costituito anche il PDTA per le donne metastatiche, votato all'unanimità in consiglio regionale. Oggi andremo a riprenderlo affinché diventa poi una cosa fattiva, poi declinato negli ospedali. Abbiamo tante cose nel cassetto su cui lavorare con questo meraviglioso intergruppo regionale dove tutti i partiti hanno aderito. Mi fa molto piacere aderire a questo intergruppo che ha come obiettivo quello della prevenzione e della lotta ai tumori. Sono impegnata in questo settore fin da qualche anno fa quando ho aiutato l'associazione Cancro Primo Aiuto di cui ero vicepresidente Vicario. Continuo questa esperienza laddove posso sperare di dare un contributo da consigliere regionale in una regione, la Lombardia, che è eccellente dal punto di vista sanitario e di assistenza alle persone malate di tumore ma che ha ancora tantissime persone che si ammalano in Lombardia e che si prendono cura anche di cittadini non lombardi che trovano in Lombardia l'eccellenza nazionale non solo per la cura e la prevenzione dei tumori. Ci occupiamo adesso di Milano e della riapertura dei navigli. Uno degli obiettivi del sindaco Beppe Sala in campagna elettorale oggi a Palazzo Marino una tavola rotonda, un convegno tra cittadini e associazioni per capire un po' meglio a che punto è la riapertura dei navigli, a che punto è il progetto per noi. C'era Paolo Pirovano. I navigli hanno avuto un ruolo cruciale nella vita dei milanesi per oltre 800 anni. furono coperti tra il 1929 e gli anni 60 da via Melchiorre-Gioia alla Darsena e oggi possono essere riaperti con un progetto che guarda al futuro e a uno sviluppo qualitativo della città per la realizzazione di un grande spazio pubblico. L'intervento di recupero, secondo quanto sostengono gli esponenti dell'associazione Riaprire i Navigli, è fattibile dal punto tecnico, urbanistico e finanziario ed è compatibile con un piano di riorganizzazione del traffico urbano. Di questo si è parlato oggi pomeriggio nella sala Alessi di Palazzo Marino durante l'incontro organizzato dall'associazione Riaprire i Navigli, presieduta da Roberto Biscardini. Il Comune di Milano ha prospettato la realizzazione di cinque tratte come primo lotto dei lavori per la riapertura totale. Noi insistiamo sul concetto che la riapertura deve essere totale, integrale e deve riguardare gli interi otto chilometri che vanno dalla Cassina de Pomme alla Darsena di Milano. Riteniamo che debba essere un canale navigabile e riteniamo che gli effetti positivi sulla città riguarderà tutta la città. Ecco perché noi abbiamo detto che non devono essere consultati soltanto i cittadini che abitano sui tratti proposti dal Comune, ma tutta la città deve essere coinvolta. Non dimentichiamo che il progetto, dopo che noi l'abbiamo proposto, è stato inserito nel piano di governo del territorio già nel 2012 con l'aggiunta Pisapia, individuato come un progetto strategico di trasformazione urbana e di nuova qualità della vita, perché vuol dire meno traffico, meno inquinamento, più verde, più spazi pubblici. E adesso una buona notizia che riguarda i rider, i fattorini che a Milano consegnano cibo a domicilio. Se ne è parlato molto nel corso delle ultime settimane, sia a livello nazionale che a livello locale, oggi è arrivata questa buona notizia. Il Comune di Milano ha deciso di aprire uno sportello che offrirà ai corrieri, offrirà ai riders, consulenza sui temi della sicurezza stradale e del diritto del lavoro. Avrà quindi una funzione informativa di ascolto, sorge all'interno degli spazi del centro comunale per l'impiego e la formazione di via d'annunzio 15. Siamo vicini alla Darsena, di fronte alla Darsena, proprio perché quello è anche un luogo di ritrovo spesso per molti rider che lavorano a Milano. Lo sportello sarà attivo il mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12 con servizi di ascolto e percorsi di formazione gratuiti proposti a partire dal prossimo mese di settembre. E sempre di bici parliamo, questa volta non in tema di rider e di ambito lavorativo, ma in tema di bike sharing, perché a Milano c'è qualche problema legato al vandalismo. Sono il 10% le bici gialle off che ogni mese vengono danneggiate e questo sta mettendo in grave crisi questa impresa e questo servizio sulla città di Milano. Alberto Carreras ci spiega la situazione. È crisi per le biciclette del bike sharing a flusso libero, OFO. Il servizio a Milano è partito due anni fa con 4.000 bici. Purtroppo gli atti vandalici, i furti e i danni hanno massacrato questa azienda cinese che si era già ritirata da altre città, restando però nel capoluogo lombardo. Ogni mese il 10% della flotta viene inesorabilmente colpito dai vandali. Si parla di 400 biciclette su 4.000. Ricordiamo bici lanciate nell'acqua nel naviglio e poi manomesse, rotte o portate a casa invece che lasciate nella disponibilità pubblica. Insomma, sembra che l'inciviltà a volte abbia il sopravvento. OFO deve ridurre i costi ed è già stato licenziato del personale. Tuttavia, chi è rimasto non vuole mollare, ma anzi vuole passare al contrattacco con migliorie di vario tipo. Le biciclette gialle verranno riparate con materiali più resistenti. I modelli nuovi rappresentano ormai gran parte di tutte le due ruote in circolazione e hanno un telaio più grande. I danneggiamenti riguardano purtroppo anche le altre aziende presenti sul mercato. Mobike ha 8.000 biciclette, BikeMe circa 4.600, di cui 3.600 bike sharing nelle stazioni di parcheggio e un altro migliaio elettriche. Dopo l'estate arriveranno nuovi veicoli a pedalata assistita. E adesso il caso di un tassista milanese a cui è stata sospesa la licenza perché avrebbe, anzi ha, rifiutato la corsa a due invalidi. Questa è stata la decisione che è stata comunicata oggi dalla Commissione Disciplinare Regionale della Lombardia. Il fatto è avvenuto all'aeroporto di Malpensa. Il tassista ha ritenuto la corsa richiesta da queste due persone disabili appunto troppo breve e per questo ha rifiutato. Il tassista è stato sospeso dalla Commissione Disciplinare Regionale per un totale di 30 giorni, come previsto dal regolamento per il rifiuto del servizio. Anche la cooperativa Taxi Blu ha espresso soddisfazione per questa decisione di sospendere questa licenza a fronte di una scelta inaccettabile, è quella di non offrire un servizio pubblico. Queste quindi le parole di Taxi Blu. E adesso la pagina dedicata alla Diocesi di Milano. Da domani per la rubrica di informazione religiosa la Chiesa nella città in onda sulla nostra emittente alle 18.30. Di giovedì e le repliche su Chiesa TV inizieranno gli speciali estivi curati da Anna Maria Braccini. Sette puntate nei consueti orari previsti per ognuna delle due emittenti ripercorreranno gli eventi più rilevanti dell'anno pastorale 2017-2018 tra attualità ecclesiale, sociale, arte, storia e cultura. Ed è la stessa Anna Maria Braccini che è presente e conduce i nostri programmi che ci spiega come funzionerà questo palinsesto. Dalla puntata di domani la Chiesa nella città magazine di informazione religiosa a cura della Diocesi di Milano presenta una serie di speciali per il periodo estivo. Trasmessa su Terenova appunto il giovedì alle 18.30 e su Chiesa TV canale 195 del digitale terrestre nei consueti orari la rubrica per sette settimane fino all'inizio di settembre proporrà così una sorta di viaggio virtuale attraverso l'anno pastorale 2017-2018 con i suoi eventi più rilevanti. A partire proprio dal saluto alla Diocesi del Cardinale Angelo Scola per la conclusione del suo ministero episcopale sulla Cattedra di Ambroggio Carlo ed a lungo servizio dedicato all'ingresso solenne a Milano del successore Monsignor Mario Delpini lo scorso 24 settembre. Poi appunto tanti eventi con lo scorrere dei mesi tra arte, grande musica, storia, approfondimenti sulle principali questioni sociali e civili del momento attualità ecclesiale e come sempre il magistero dell'arcivescovo. Scorreranno così le immagini delle grandi celebrazioni in Duomo dei pontificali, degli appuntamenti culturali di momenti particolarmente forti della predicazione in avvento e in quaresima. In totale saranno una quarantina i contributi offerti agli spettatori per comprendere al meglio cosa sia accaduto nella chiesa ambrosiana in questo primo anno dell'episcopato di Monsignor Delpini e infatti per ripartire a settembre con l'anno 2018-2019 l'ultima puntata degli speciali estate della chiesa nella città sarà proprio dedicato al primo anno di Delpini alla guida della diocesi di Milano. Il nostro telegiornale termina qui, non andate via però perché dopo di noi con Luciano Rindone arrivano le Vags con tutte le notizie sul gossip e il mondo del calcio e poi questa sera con Michele Marchetti una puntata speciale di Nova Stadio con la presentazione di Cristiano Ronaldo e tutte le altre notizie di grande attualità il calcio mercato, davvero una serata da vivere insieme a noi grazie, a domani. Grazie a tutti